Un salutone e un abbracione dal vostro italo cuore giallorosso. Oggi parliamo di cosa da calcio. Ieri c'è stato uno dei big match tra Juventus e Bologna. Si è concluso apparentemente con la vittoria di 2 a 1. 2 a 1 della Juventus contro un ottimo Bologna. La partita sembra che il risultato è 2 a 1, invece no, porca puttana, porco zio, porca tozza, ladri. Siete ladri. L'arbitro, l'arbitro è il racchio e il Juventino. E il Juventino, se sa, è buggato, è buggato, mortacci tua. Negato un rigore, fallo di mano, netto, 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 netto. Avarra io non lo so. Per cosa ci sta l'Avarra? E voi, Juventini, che state a sbriciolà, che siete farsi, farsi, come uno che ha fatto, è condannato all'ergastolo che ha ammazzato trenta persone. Voi siete farsi, farsi, Juventini, farsoidi, come l'arbitro Irratti, che è un Juventino nato. Poi potete vedere che è il Juventino. Fallo di mano, la presa dell'alte, ne var, ne niente, hanno visto tutti. L'ho rivisto cento volte, cento volte a rigore. Perché se racconto, come si dice, a noi ci hanno fischiato, a noi da Roma, a rigore. Contro. Alla Juve stranamente non ce lo fischiano mai. E poi venite a parlare. E' fortuna che siete una squadra fortissima. Il campionato lo vincereste senza problemi, pure con questi favori. Poi sul gol, mamma mia, sul gol dei piani c'è il secondo gol. Mamma mia, ha ammazzato mezza squadra. Nel cartellino l'ha graziato, fallo e gollo. Mamma mia, che arbitro. Che arbitro. E venite a parlare. E venite a parlare i mortacci vostri. Se mi sento parlare per qualche decisione abitale, mi faccio dissing. A più non posso. Perché siete lati. Siete lati. L'arbitro è giuventino. E voi giocavate in dodici. Con la divisa pure. Pure c'avevate la Juve. L'arbitro. Ma come sai fare, ragazzi? Che cazzo sei? Voi lo dovete dire. Che cazzo serve la valla? Voi lo dovete spiegare. Voi lo dovete spiegare. Voi lo dovete spiegare. Ho il metodo del giudizio per una squadra di rigore. Se la nuova regola dice se lo tocchi con le mani in aria e il rigore. Perché? Alla contro la Juve non è rigore. A favore è rigore. Per le altre squadre è sempre rigore. Ma lo dovete spiegare. Ma lo dovete spiegare. Ma lo dovete spiegare. Buffoni. Siete la massa dei buffoni. Dal primo all'ultimo avete rotto le palle. Scusate la terminologia. Avete rotto. Avete rotto. Ladri. 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 Un ottimo Bologno meritava il pareggio minimo. Minimo. Derubata. Furto. Furto. La banda Bassotti colpisce ancora. Eppure parlate. Eppure parlate. C'hanno il coraggio di parlare. Poi me mangiate 50 con la partita. Non è corpo la nostra. Però voi sempre l'aiutino. L'aiutino pure qua. Ma ora c'è sta l'aiuto. Perché non la guardano? È il gol vostro. Bene ci ha ammazzato il giocatore del Bologna. Eppure il compagno di squadra. Ne ha niente. Quelle gol da annullare. Ladri. Ma siete una massa di ladri. Vi dovete vergognare. Io vi auguro. Vi auguro. Guarda. A questo punto devi perdere pure uno scu... Guarda. Sarei felice. Mi dispiace di sapere che è bravo. Avete una squadrone. Ma meritate il peggio pure voi. Perché avete rotto? Avete rotto e sui social... E ravantate. Sofferta vittoria. Ma abbiamo... Ma che c... Cosa avete vinto? Cosa avete vinto ladri? Voi siete i capi dei ladri. Voi siete i pentiti. Tipo i pentiti mafiosi. Voi siete quello. Voi siete quello. E non dovete parlare. Voi dovete stare zitti. Voi dovete stare zitti. Che vi stanno a favorire sempre. Sempre. C'è questa la barra. Il barra. Imbriachi. Sempre vi favoriscono. Vi ricordiamo... 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 Banti l'arbitro. Lino Bersi. E mo' l'arbitro baggato Juventino. Irrati. Massimiliano. Comanlegri. Li mortacci i vostri. Contra la Roma è sempre iori. Paiove. Quando fa la Juve non è mai iori. Non si capisce perché. Forse ci saranno le interferenze. A sta barra. O forse stanno ubriacati. O forse chi guarda la barra è il Juventino pure. No. Poi non dite che ce l'abbiamo contro di voi. Perché voi rubate. Voi rubate il gol. Ripeto. Il gol. Quello è fallo. Sacro santo. E poi andava pure cacciato. Pianici c'è il bonus. C'è il buon ammazzare i giocatori. Pianici. Non parlate. Non parlate. Vi dovete solo vergognare. Vi dovete vergognare. Mortacci vostri. Eppure i youtuber. Mi stavano simpatici. E stanno sgorgando un pallate. Come non parliamo. Dobbiamo parlare. Vi dobbiamo svergognare. Sta massa. Te dementi. Siete dementi. Dementi. Mortacci vostri. Io vi auguro di perdere lo scudetto. E dannare fuori pure in scempio. Che avete rotto i coglioni. Avete rotto ladri. 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 Massa dei ladri. Ladrona a banda bassotti. Con gli arbitri. L'arbitri gioventini. L'arbitri gioventini. Buggati. Sembra FIFA. Sembra FIFA. Sembra che stiamo a giocare a FIFA. Al gioco. Corpi a Montecarcio. I mortacci vostri. Onore. Onore al Bologna. Un bacio agli amici del Bologna. Vanno truffato. Vanno derubato. Voi ci avete adesso anima e cuore. Ma l'arbitro. L'ha aiutato. Perché è il giuventino. È il giuventino. Un saluto. Se la pensate come me. Iscrivetevi al canale. Un salutone. Un abbraccione dal vostro. Italo. Correggio. Ma che cazzo c'è stava a fare? Se manca la guardate. Andate a pigare il culo. Ciao.